Diversi stili architettonici si mescolano perfettamente a ispica, ma così come nella maggior parte delle località del Val di Noto, lo stile architettonico prevalente è il barocco siciliano. La sua massima espressione qui è certamente la Basilica di Santa Maria Maggiore alle mie spalle. Di fronte alla Basilica, un porticato a semicerchio in stile rococò, detto loggiato del Sinatra, che delimitando l'aria crea una piazza particolarmente folcloristica, non a caso divenuta più volte protagonista di diverse pellicole cinematografiche. Ispica è arte, natura, archeologia, storia, architettura e mare. 12 chilometri di costa, da Santa Maria del Focallo a Porto Ulisse e in mezzo Punta Cirica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.